Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi in questo periodo c'è GTA V gratis sul Game Pass, quindi magari è l'ora di portare anche qualcosa se qualche nuovo giocatore capita in questo canale. Quindi iniziamo con il glitch raga per teleportarsi all'interno di Ammunition, al poligono di tiro. Veramente comodo, magari se siete combattenti, se siete in lobby, se siete combattendo e volete spostare ragazzi e andare subito dentro Ammunition per essere un attimo protetti o perché non avete voglia di andarci e vi serve a comprare qualcosa. Quindi praticamente il nostro amico che ci darà una mano dovrà andare ad avviare una di queste attività come vedete in basso a destra dal telefono. A questo punto ragazzi ogni attività avrà il suo teleport, per esempio fraccette sarà dentro al bar dove si gioca a freccette e al poligono di tiro raga sarà dentro Ammunition eccetera eccetera. Quindi facciamo avviare l'attività al nostro amico, dopodiché ci partecipiamo e entriamo all'interno della lobby. Una volta spavunati poi dentro l'attività gli diciamo al nostro amico semplicemente di andare su visualizza giocatori entrati raga e di cacciarci fuori. Una volta che ci caccerà fuori raga e sbada bam ci direi in alto a sinistra che ci hanno cacciato e saremo all'interno del poligono di tiro di Ammunition. Quindi ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi è stato d'aiuto o se vi sarà d'aiuto. Condividete, abbonatevi se volete sostenermi alla grandissima e alla prossima. Bella regà! Ciao! Ciao!